allora prima che mi dimentico vi saluto a tutti amici ed amiche buona serata dal vostro Enrico Caffarelli faccio questo perché quando leggo determinate interviste determinati frasi parole vado su tutte le furie e quindi potrei dimenticarmi una cosa molto importante del saluto a voi che siete eccezionali e tengo alla vostra alla vostra amicizia seppur virtuale considerando questo vi dico di non trattare di non vedere di non considerare questo come un video è soltanto uno sfogo mio personale come se fossi davanti ad un amico o ad un'amica perché so che mi seguono anche donne e sono fiero di questo perché il calcio è per tutti quindi non mettete like non iscrivetevi niente di tutto questo è uno sfogo che ho dentro leggendo queste parole se la Roma è troppo criticata sì sì è troppo criticata troppo 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 ha un profilo anche di comportamento a livello interno che apre un po la porta a questo tipo di situazioni ma la Roma è troppo criticata e lo è anche murigno parla di se stesso un piccolo esempio il nostro tragitto per la finale di europa league è stato facilissimo scherzando lo dice questo e guarda cosa fa il red bull salisburgo in champions la real società den champions è in campionato il feienord quello che fa in champions è ancora il lo è ancora in lotta il bayern leverkusen guarda cosa sta facendo pensa che l'ultima partita che ha perso sia sia stata con la Roma se ci fosse un altro allenatore un altro club con un altro profilo la storia sarebbe completamente diversa per me è un problema dal punto di vista personale perché è una cosa che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera carriera se per me non era un problema dieci anni fa figurati se può esserlo ora ma penso sia un problema per la Roma come club perché merita molto di più penso che sia un problema per i tifosi che si meritano anche loro molto di più ma io dico no murigno mio stai iniziando la serie a ecco dopo domani la prima intervista che fai cominci subito a piangere a farti scendere la lacrime la lacrimuccia come pierrot ma metti in campo una squadra che ci abbia due coglioni così scusate della parola che entri dal primo minuto all'ultimo e voglia vincere la partita la prima cosa che fai appena ricomincia il campionato è subito dire che la Roma non è protetta la Roma è qua e là anche tu la tua persona non è tutelata ma di che ma di che cosa io ti ringrazierò sempre questo lo dico per per quei pochi personaggi che dicono che io non sono romanista sono antimurignano per carità io sono soltanto onesto e obiettivo quindi ti ringrazierò per avermi fatto vincere la conference league adesso e per sempre ti ringrazierò per avermi fatto giocare una finale persa ingiustamente in europa league adesso e per sempre ti ringrazierò appunto ma quest'anno che cosa stai facendo che cosa stai facendo soltanto piangere piangere con la Roma con gli arbitri con la stampa con tutti ma falla finita hai detto anche che non che non vuoi e che non sai se rimani a Roma male che vada e te ne vai in arabia saudita perché i fritti che non ti fanno sapere se ti rinnovano il contratto ma falli falli ragionare positivamente nei tuoi confronti non essere sempre stizzoso che hai sempre la puzza sotto al naso dimostralo dimostralo come l'hai fatto nel primo anno per quanto riguarda le coppe europee perché poi se ti chiediamo di giocare di far giocare bene la Roma è come se avessimo chiesto che ne so l'anima a qualcuno è un'eresia chiederti a te di far giocare bene le squadre ma non è da oggi è da sempre anche se sei se sei pluridecorato però le tue squadre lo sanno tutti non offrono un buon calcio ma quest'anno non stai offrendo proprio niente perché anche con con le altre squadre che sono inferiori dal punto di vista e del del monte ingaggi della classifica e del blasone abbiamo fatto ridere abbiamo avuto un bucio di culo così con lecce a vincere non ti dimenticare col monza uguale perché tutte le altre squadre le altre partite le abbiamo perse tutte praticamente praticamente tutte praticamente tutta parte quel 7 a 0 con l'empoli chissà per quale motivo quella giornata c'è stato questa questa luce questa questo sole che non abbiamo mai visto quest'anno murigno i tuoi la tua squadra il tuo club ha il terzo monte ingaggi della serie a terzo monte ingaggi quindi devi farci vedere che gioca a pallone almeno non dico splendidamente ma almeno mettersi là a fare una proposta di gioco anche alla nereo rocco non lo so alla alla dico io mazzone ma mazzone è stato un signore allenatore e alla alla giratini non lo so la roma non gioca a calcio quest'anno non gioca tranne qualche qualche sporadica occasione la roma non fa proprio gioco si mette dietro a muro aspettando qualche ripartenza oppure il puntarello il punticino se ti dice bene come come contro la lazio perché poi anche la lazio quella partita la giocata insomma anche loro per il punticino che sembrava proprio una gioia infinita per voi che il derby sia stato pareggiato perché altrimenti giù a critiche o da una parte o dall'altra perché anche la lazio quest'anno non è che stia facendo questo grosso campionato io non lo so ragazzi non lo so murigno non fa altro che 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 pia ma è poco credibile secondo me è poco perché quest'anno chi ha dato contro la roma chi me lo deve dire me lo deve dire murigno quest'anno non c'è stato nessuno contro la roma a parte qualche piccola occasione qualche piccolo episodio che ci può stare come in tutte le altre squadre quindi murigno io ti invito a far giocare la squadra a voler vincere le partite dall'inizio alla fine e non a sculare dai come abbiamo visto in diverse occasioni perché la roma merita ben altro anche con te eh io non sto dicendo che te ne devi andare a tutti i costi quello lo deciderà friedkin però piangite meno e fai più fatti ciao a tutti scusate lo sfogo